Quest'anno ci si è spostati sulla costa ionica, contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi, ma lo stesso, come ogni istante, la sezione unice di Vibo Valencia ha realizzato, abbadolato, il suo obiettivo di organizzare il campo estivo, allargato ad altri pluri minorati. Un'occasione straordinaria per offrire a persone con particolari esigenze un momento di vacanza estiva altrimenti impossibile. Propositi da sempre perseguiti dall'Unione Italiana Ciechi e Poviadenti di Vibo Valencia e che si intendono raggiungere anche attraverso le competenze e le professionalità di quanti collaborano attivamente con l'intento di puntare l'accrescimento dell'autonomia delle persone con disabilità mediante attività di formazione, abilitazione e riabilitazione. Anche quest'anno ci siamo ritrovati per il campo estivo riabilitativo. Per questo evento dobbiamo ringraziare la Fondazione Carical che con un suo finanziamento partecipa in parte alla realizzazione di questo campo che noi realizziamo come Unione Ciechi e IRIFOR. Quindi è un campo in cui non è solo divertimento ma ci sono delle attività riabilitative all'interno quindi è aperto a tutti i nostri soci, noi abbiamo qui una decina di soci, alcuni con pruriminorazione quindi è fondamentale fare queste attività che ovviamente non vanno a risolvere tutte le problematiche che ci sono perché ci sarebbe bisogno di continuità. Però è un modo per iniziare e per alcuni avere un primo approccio a queste attività che poi noi cercheremo comunque di intensificare durante l'anno sperando anche nell'aiuto sempre delle istituzioni pubbliche come già qualcosa sta avvenendo col progetto regionale a favore dei Ciechi e Pruriminorati. Io sono venuto qua all'inizio quando siamo arrivati era un po' difficile la cosa come abbiamo visto il paesaggio poi invece ci siamo ritrovati bene, siamo stati benissimo, il pranzo tutto, la cena, la collezione della mattina tutto il lungomare è stato bellissimo, la piscina tutto, ci siamo ritrovati bene speriamo che l'anno prossimo, Presidente ascolta, lo fai di nuovo. Come ti sei trovato? Bene. Ecco, l'esperienza, racconta un po' quello che hai fatto. La piscina, il male, tornando tra male, tornando tra le piscina, ho fatto le attività è stata bella. Ti è piaciuto? Sì. Vorresti rifarlo ancora? Sì.